Penso che questo periodo sia abbastanza preso, io la seguo su Facebook, come va con la gente che incontra? Guardi, nella vita abbiamo sempre due alternative e credo che lei me lo insegni. La prima, piangerci addosso e dire giustamente la colpa di chi è. Credo che sia una roba giustissima, lei potrebbe farmi l'elenco di tutte le ingiustizie che può aver subito e di tutte le colpe che può dare al sindaco, alla politica, alle istituzioni che non l'hanno capita, a quello che non gli ha pagato i debiti, oppure reagire rispetto a quello che ti capita e dire che puoi cambiarla tu la realtà, puoi essere protagonista. Noi per esempio in questi due mesi abbiamo capito che o la burocrazia la cambiamo, la cambiamo veramente, o l'Italia la cambiamo veramente, quindi avendo il coraggio di ridurre le prefetture, avendo il coraggio di cambiare il Parlamento, di ridurre da due il numero dei parlamentari, di iniziare a fare che la spesa pubblica, i soldi che ci date devono essere usati meglio. Allora, questa è l'unica questione di segnali concreti di cambiamento che possano far ritornare un po' di fiducia, un po' di speranza in questo Paese, se no non esciamo più. Elezioni europee. Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centrodestra e scrivi lupi come preferenza.